Impossibile definirlo solo un gioco da tavolo. Il subuteo è nato in Inghilterra nel 1947 da un'idea dell'ornitologo Peter Adolf e senza dubbio qualcosa in più. In Italia si è diffuso tra gli anni 70 e 80. Dopo un breve periodo di crisi, dovuto soprattutto alla diffusione dei videogiochi, negli ultimi anni è tornato in auge, facendo breccia nelle nuove generazioni. Anche per questa ragione è facile spiegare come Claudio Panebianco, un giovane catanese di 15 anni, innamorato del calcio e del subuteo, è riuscito a laurearsi campione italiano di categoria. Il successo di Claudio è stato raggiunto ai campionati italiani assoluti che si sono svolti in Toscana a Chianciano Terme il 18 e 19 maggio scorsi. Il titolo italiano conquistato da Claudio Panebianco, battendo in finale per 2-1 il napoletano Andrea Ciccarelli, è il primo scudetto che la città di Catania conquista nel subuteo. Una doppia soddisfazione per Claudio che dopo aver vinto il titolo è stato convocato dalla nazionale italiana per andare a disputare i prossimi mondiali di calcio da tavolo, alias subuteo, che si terranno dal 20 al 22 luglio a Manchester in Inghilterra, all'interno dello stadio in cui gioca il City di Mancini. Claudio Panebianco gareggia per la SD Subuteo Club Catania, il club che rappresenta da 25 anni la città etanea nei campionati di subuteo. La SD Catania, che milita nel campionato nazionale di Serie B, ha ottenuto in questa stagione un ottimo sesso posto in classifica, un piazzamento che permetterà ai catenesi di disputare il campionato di Serie B anche nella prossima stagione.